I negozi sono vuoti comunque, passeggia, guarda, non mi sembra che i negozi si sia gente. 4, 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 3, 2, 1, 0! 4, 1, 0! 4, 1, 0! 5, 1, 0! 5, 1, 0! 5, 1, 0! 6, 1, 0! 6, 1, 0! 6, 1, 0! Non abbiamo comprato niente, però... Avete fatto una passeggiata? Sì, una passeggiata, ho provato più che altro. No, non l'abbiamo fatto più di tanto. Voi hai visto se secondo me c'era tanta gente, come è sembrato? Sì, comunque c'è gente, ma... Sempre contenuta comunque. E ora ci sta parlando un giretto così, e poi si vanno di nuovo a casa, che dobbiamo fare. C'è almeno gente, non c'è nessuno. C'è almeno gente di spesa al solito. I negozi sono vuoti, comunque. La gente passeggia in base. Passeggia, guarda, ma... Non mi sembra che i negozi si sia gente. Non c'è proprio l'area natalizia. Ecco. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Un'altra cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.